Un sì per dire addio al bicameralismo paritario, garantire stabilità e partecipazione, cancellare poltrone e stipendi e togliere poteri alle regioni inefficienti. Raccolta di firme questa mattina a Macchitella, promossa dal Partito Democratico di Gera, in merito al referendum costituzionale previsto il prossimo ottobre, con cui verrà deciso se approvare o respingere la legge Boschi, cioè la riforma della Costituzione voluta dal governo Renzi. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Saremmo scesi in mezzo all'agenda, saremmo andati nei quartieri a cercare le firme ed è esattamente quello che stiamo facendo. Oggi a Macchitella con Gendinari e con Cittadini per sottoscrivere un referendum che mette in gambo il più grande percorso di innovazione e modernizzazione del Paese degli ultimi decenni. Ecco ma questo sì alla fine a cosa servirà? Questo sì servirà a rendere il Paese più efficiente, a superare il bicameralismo perfetto, a superare le inutili, a superare una serie di poltronifici inutili, quindi a rendere un Paese più modello e più snello salvaguardando l'impostazione della Costituzione. Perché noi siamo convinti che la nostra sia la Costituzione più bella del mondo, ma la Costituzione non è il Vangelo, si può cambiare. Il referendum ha una valenza politica importante. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto più volte che si ritirerà dalla politica se dovesse essere sconfitto. Due elementi. Il primo non è un referendum Renzi sì, Renzi no. Perché quel referendum Renzi lo vincerà e lo vincerà nel 2018 quando vinceremo le elezioni. Questo referendum lo vinciamo perché è un referendum che mette in campo, ripeto, il più grande percorso di innovazione e modernizzazione degli ultimi decenni, di cui questo Paese ha profondamente bisogno.